Altro che cartoni e semplici si fa per dire sacchetti di spazzatura. Le opere d'arte esposte all'esterno del Museo Madre si arricchiscono di nuovi reperti come una porta, i resti di un televisore, un passeggino, pensili e cappa di cucina e tanti stracci. Appena ieri la nuova denuncia di TV Luna ripresa dal Corriere del Mezzogiorno che su suo sito ironizza sulla qualità delle opere d'arte contemporanea che si trovano appunto all'esterno del Museo di Donna Regina. In una sola notte i rifiuti ingombranti sono raddoppiati e c'è da dire che la mini discarica all'angolo tra via Settembrini e Gradini-Loffredi viene scelta apposta da chi chissà da dove porta qui di tutto. In passato oltre ai soliti mobili ed elettronomestici fu abbandonata persino la carcassa di un motorino. C'è da sperare che il mezzo Asia con passo intorno alle nuove a via Loffredi serva proprio a portare via i rifiuti ma non è troppo piccolo e soprattutto perché nessuno vigila su quest'angolo del museo visto che basta qualche giorno per far rinascere la discarica della cultura.